Già le persone che vivono questa città unica la percepiscono come tale, di conseguenza è secondo me improcastinabile ormai un organismo unico, diciamo, tipo amministrativo, perché questo non solo riduce le spese, in questo modo migliorerebbero i servizi, tutti i servizi. Ha fiducia che questo percorso possa arrivare a termine? Ho fiducia che prima o poi arriverà a termine, ovviamente noi stiamo spingendo molto perché i politici spingono ad avere più comuni, questo perché poi ogni comune ha un sindaco, ogni comune ha la possibilità di avere un riferimento anche in termini elettorali con persone che vivono in quelle aree, quindi ci sono dei feudi che hanno queste resistenze all'unificazione. Queste interlocuzioni con Berlusconi a che cosa preludono? C'è stata anche al Presidente Berlusconi una richiesta ai sindaci che hanno operato bene sul territorio di dare un contributo anche in termini di programma e questo è stato da me assolutamente accolto con favore. Io ovviamente sono legato alle attività amministrative, alla Camera e al Parlamento. C'è già il mio fratello che c'era già da prima e che ha una funzione secondo me molto positiva, nel senso che studia anche lui quelli che sono gli aspetti che riguardano i temi della politica nazionale, lo fa molto bene a mio avviso e quindi sono sicuro che continuerà lui. Io posso dare un supporto più nell'aspetto amministrativo legato al territorio.